La sfida con il Cagliari regala innumerevoli stimoli ad un Pescara che sabato prossimo all'Adriatico andrà a caccia della seconda vittoria della stagione. Già il fatto di affrontare l'imbattuta capolista isolana basta e avanza per motivare un ambiente un po' raffreddato da un avvio di stagione con il freno a mano tirato. Per Andrea Cocco non sarà una gara come le altre. Il tecnico pescarese Oddo può tirare però un sospiro di sollievo visto che l'ex Vicentino è tornato a lavorare con il gruppo dopo qualche problema fisico. Cocco Cagliaritano Doc proverà sicuramente emozione nell'affrontare la squadra della sua città e con cui nel 2005 ha anche esordito nella massima serie. Ma sulla sponda isolana la gara dell'Adriatico sarà vissuta in maniera particolare da quattro ex pescaresi. Il riferimento è a Balzano, Capuano, Salamone e Melchiorri che in un passato recente hanno giocato con la maglia del Delfino. C'è curiosità per vedere quale sarà l'accoglienza che i tifosi biancazzurri riserveranno a quelli che oggi sono i pilastri del Cagliari di Rastelli. Facile ipotizzare applausi per Capuano e Balzano, protagonisti nel Pescara dei record di Zdenek Zeman. Il primo, nato e cresciuto calcisticamente in riva all'Adriatico, deve proprio al Boemo la sua consacrazione. Il secondo, anche capitano nel Pescara di tre stagioni fa, è rimasto molto legato a Pescara e al Pescara e proprio in città tornerà a vivere una volta appese le scarpette al chiodo. Federico Melchiorri a Pescara invece letteralmente esploso, con 14 gol segnati nella passata stagione, l'attaccante di Macerata ha contribuito all'ottimo campionato della squadra abruzzese arrivata ad un passo dal traguardo della Serie A. Beniamino dei tifosi ha scelto Cagliari, non senza lasciare però rimpianti. Discorso un po' diverso per Barto Salamon, il biondo difensore polacco dopo essere tornato per fine prestito alla Sampdoria, era a poche ore dalla chiusura del mercato, quasi un giocatore del Pescara. Arrivato in Abruzzo per le visite mediche e la firma, poi ricevuto la richiesta della società Sarda, decidendo così di sposare il progetto rosso-blu. I tifosi del Pescara ci sono rimasti male. Fra poche ore capiremo se la delusione è ancora grande e la ferita ancora aperta. All'apposto di Salamon in Abruzzo è sbarcato dall'Argentina l'ex interista e napoletano Ugo Campagnaro, che verrà quasi certamente inserito nella lista dei convocati per la prima volta, proprio per la gara di sabato con il Cagliari. Un giocatore con tanti campionati di Serie A alle spalle, capace di regalare quell'esperienza necessaria ad un Pescara che anche al Menti sabato scorso ha commesso diversi peccati di gioventù che sono costati la conquista dei tre punti, ad otto secondi dalla fine. Grazie! Grazie! Buon appetito! Grazie! Grazie! Grazie a tutti.